Buongiorno bimbi, allora come state? Io sono sicuro che state tutti bene, compreso anche i vostri genitori. Procediamo con la nostra programmazione e siamo arrivati al punto, faccio una premessa per i genitori, dei concetti topologici. Allora i concetti topologici sono l'acquisizione dei concetti topologici fondamentale per l'apprendimento poiché permettono la comprensione delle relazioni che intercorrono tra l'io e l'ambiente vissuto, dei cambiamenti propri e degli altri nello spazio. Quindi io, maestra Marta e maestra Elisa, procediamo in questo momento della programmazione con i concetti topologici che sono davanti, dietro, sotto, sopra, alto, basso, dentro e fuori. A me compete oggi farvi capire il concetto topologico davanti, dietro. Ecco qua il foglio bambini, pieghiamo il foglio a metà, così, se riuscite, e disegniamo, da una parte disegniamo una casa, in questo modo, voi sono sicuro che disegnate molto meglio di me, una casa, facciamo le finestre e la porta. Dall'altra parte disegniamo la stessa casa, ok? Sempre così, con la matita, possibilmente all'inizio, facciamo l'altra casetta, facciamo la porta e facciamo la finestra e poi ancora un'altra finestra. Ora prendiamo il pennarello marrone e facciamo, ovviamente sotto, scusate bambini, tracciamo una riga verde dove le case sono appoggiate sull'erba. Qua disegnate l'erba, disegnate i fiorellini, quello che volete voi. Prendiamo il pennarello marrone e disegniamo il tronco sopra la casa di un albero. Anche dall'altra parte disegniamo un albero in questo modo. Poi prendo il pennarello verde e faccio la chioma dell'albero e anche da questa parte la chioma dell'albero. Adesso io vi chiedo di colorare poi l'albero che è davanti alla casa. Secondo voi bambini, l'albero davanti alla casa è questo o questo? Io sono sicuro che voi non sbagliate. Vi do un suggerimento. Io coloro questo albero perché vi ho detto di colorare l'albero davanti alla casa. Infatti l'albero davanti alla casa è proprio questo. L'altro lo lasciate così. Grazie e buona serata, buon tutto. A risentirci a presto.